Scarica l'app di Juventus News 24, informazione sportiva 100% bianconera. C'è una grande voglia di tutta la squadra di far bene, di andare lì a vincere questa partita per poter sperare ancora la qualificazione. Stiamo parlando sempre, anche quando vinciamo, perché non è sempre tutto bene, ma se sapevo cosa non va per la squadra sarebbe facile. Dobbiamo risolvere i problemi sul campo, perché all'interno della squadra siamo bene come compagni di squadra, come uomini. Siamo importanti per la squadra, ma credo che siamo tutti importanti, ogni uno. Ha un ruolo importante da giocare in squadra. È vero che la squadra è cambiata tanto da quando sono arrivato. Prima c'erano più giocatori di esperienza, adesso siamo un po' più giovani. Domani sarà una partita molto complicata, perché comunque loro sono una squadra che già qui ha fatto vedere le ottime cose, sono dei buoni tiratori, hanno tirato molte volte. Se mi hai già detto che Milica e Blasci sono tutti insieme, ho detto che non è un'allegrata. All'imite farò una cosa che nessuno si immagina, però detto questo, domani bisogna fare una partita di compattezza. In questo momento qui bisogna ridurre al minimo gli errori. In questo momento qui la cosa più facile da fare, la cosa che è più redditizia, è quella di avere più compattezza all'interno della partita. In questo momento bisogna comunque tirar fuori qualcosa in più, perché comunque il dettaglio fa la differenza, il centimetro in più fa la differenza, l'attenzione in più fa la differenza. C'è la possibilità, quella di domani sera, di giocare subito un'altra partita e quindi va vista come un'opportunità per rilassarci in piedi. Le due partite avevano illuso un po' tutti, ma questo è stato un errore, perché comunque non bisogna mai illudersi, bisogna vivere di realtà e di cose pratiche. Io credo che ci sia un percorso di crescita e questo non deve essere un alibi, perché non bisogna avere degli alibi. Poi è normale che l'esperienza si fa giocando e pagando con certi errori, ma questo fa parte di un percorso che la Juventus ha iniziato dopo tanti anni di vittorie. Dall'esterno sembra facile prendere, si cambiano i giocatori, finiscono i cicli, perché la vita è ciclica, e dopo tre mesi vinci, fai, ma non è così. Ci sono altre squadre che sono cresciute, hanno iniziato nuovi cicli, e su questo noi bisogna lottare, quindi bisogna fare di più. Per raggiungere gli obiettivi, ora bisogna fare molto di più, perché bisogna riacquistare un'autostima generale che prima c'era, perché le vittorie ti danno autostima, e su questo bisogna lavorarci, lavorare ogni giorno, crescere e ritornare a livelli che la Juventus li compete. Per raggiungere gli obiettivi, per raggiungere gli obiettivi, per raggiungere gli obiettivi, per raggiungere gli obiettivi, per raggiungere gli obiettivi,